Amici della serie di Ben ritrovati allo Spezia Park, il pubblico è quello delle grandi occasioni in campo e noi è Satisfay per un match che si attende ricchissimo di azioni da una parte all'altra match in cui servirà tanta grinta, precisione, pochi errori e un pizzico di follia per avere la meglio dell'avversario e conquistare una finale Fisca Russo, si comincia, Pellegrini per Pellegrino Bodini in verticale, attaccato da Bertini, attenzione Bertini ancora può metterla dentro chiuso però da Bassana, allora poi Bodini sbaglia però Bertini ancora attenzione al Berardi che intercetta tutto sbaglia ancora Pellegrino, attenzione al contropiede, 3 contro 2 Bodini cerca Caffarelli, pallone troppo corto, poi Lancini prova la giocata per Pellegrino è solo Pellegrino, Pellegrino rientra sul bancino, che giocata di Pellegrino tutti al bar, è 1 a 0 e noi Bassana alla battuta di questo calcio piazzato, fischia il direttore di gara attenzione Bassana con il destro, ma la somma in due tempi, la fa sua alle calamite al posto di Guantoni Occhiabodini che riesce soltanto a prolungarla, esce poi Berardi il pallone buono per Pellegrino che cerca di tenerla in campo miracolo che salva Satispey, Pellegrino non ci è arrivato per questione di centimetri ancora Bassana, attaccato poi Casagrande riesce comunque a girarsi che bella giocata di Casagrande che calcia ancora ma la somma plastico in questo intervento, riesce ad evitare il pericolo pallone per Bodini, in verticale Caffarelli cerca di servire ancora Bodini attenzione alle ripartenze, 2 contro 2, Bertini superatamente a campo, cerca Pellegrino, il pallone per lui riesce Berardi, ancora miracoloso, miracoloso, San Berardi palla soltanto in rimessa laterale Caffarelli per Casagrande, attenzione perché si fa vedere ancora Caffarelli il tacco di Casagrande, occhio ancora alla ripartenza di Enoi con Bertini che controlla, si fa vedere Albini Bertini ancora, se la porta su destro, poi sul mancino, calcia palla sul fondo di un nulla, soffia Berardi semplice rimessa dal fondo arriva il duplice fischio, il direttore di gara, 1 a 0 il risultato in favore di Enoi, risultato che poteva essere anche opposto grandissima partita fino ad ora, tanto spettacolo, tanti colpi duri per una partita maschia che ha ancora tanto da dire nella ripresa si ricomincia con il secondo tempo di Enoi Satispei ancora Casagrande, può anche calciare, da lì parte il destro che gol è di Casagrande, palla nel 7 1 a 1, tutto da rifare attenzione a Lancini che controlla, ancora Lancini si gira attaccato e la porta via a maschia, allora riparte ancora Bassan cambia tutto per Vigo, può calciare, la mette dentro ma la somma la fa su, attenzione subito di Enoi che può ripartire Bertini, lancio troppo lungo per lo scatto di Lancini poi Pellegrini copre l'uscita di Malasomma, la giocata di Bertini sulla sinistra, va via ancora Bertini, rientra sul destro Bertini, Bertini, Bertini 2 a 1 Enoi, rimette la testa avanti con l'euro goal di Bertini riparte ancora Bertini sulla faccia, chiuso da Casagrande Bertini ancora alla meglio, la mette dentro per Pellegrino il tap in del numero 7, il gol di Pellegrino 3 a 1, servirà adesso un miracolo ad Enoi occhio al calcio di punizione, parte Bodini con il destro verso la porta ancora, ma la somma super che vola e la mette in calcio ad angolo attenzione ancora, Pellegrini parla deviata da Casagrande che mette fuori tempo il portiere di Satisfay non può far nulla questa volta Berardi 4 a 1 Enoi, risultato virtualmente in ghiaccio occhio al calcio di punizione, parte col mancino Pellegrino verso la porta Berardi non vuole essere da meno ma la somma e devia in rimessa laterale Casagrande per Dalmasso ancora Casagrande va via in avversario Casagrande la mette dentro, la deviazione di Dalmasso 4 a 2 Satisfay comincia la remuntata Caffarelli prova ad andare via ancora Caffarelli calcio col mancino Pellegrino allontana, occhio a Pellegrino chiuso da Casagrande che cerca il fallo Pellegrino per Ardi gli dice di no e riesce a metterci il piedone allontana in rimessa laterale Caffarelli prova a ripartire ci riesce, sbilanciata adesso 4 contro 2 Satisfay pallone buono per Bassan che prova a saltare Malasomma sul pallone all'intervento di Malasomma Malasomma va al rilancio Pellegrino cerca l'euro goal ma finisce qui triplice fischio del signor russo e noi in finale Satisfay si giocherà il terzo posto contro Asof Cinema vi diamo appuntamento dunque al 24 di maggio per le finali di questo torneo grazie a tutti per essere stati con noi alla prossima